Sono soprattutto le persone non più giovani a farsi portavoce delle criticità del quartiere Po, che in certe zone presenta delle trappole per i pedoni, le buche profonde sulle strade, i marciapiedi sconnessi sono sempre uguali, nessuno ha provveduto a sistemarli e a volte si è costretti a camminare sulla strada con i pericoli che questo comporta. Sistemare tutti i marciapiedi, le strade, perché è veramente una vergogna. Io poi che ho anche mal di gambe quando cammino, le assicuro che faccio fatica. Che va praticamente nulla, pulizia delle strade spaventosa, sicurezza nel quartiere totalmente assente. Sono caduta sul marciapiedi e mi hanno appena tolto il gesto. I marciapiedi, guardi come sono conciati, non si può camminare sui marciapiedi, il comune si svegli. Vengo spesso a fare un po' di attività fisica e devo rimanere magari sul tratto dedicato alle autovetture perché i marciapiedi sono impraticabili. Un po' di tutto, le strade. Se lasciano le foglie, ci si imporre. Si bucano subito quando viene la pioggia. Noi qui ogni tanto guardiamo e telefoniamo in comune, arrivano qua, però bisogna sempre chiamarli, non è che è una cosa normale. Anche la questione del verde è molto sentita. Le piante, di tagliarle un po' più spesso. Quello che è la manutenzione delle piante, un disastro. Mi è caduta una pianta su una macchina, non me l'hanno risarcita perché si dice che non si risarcisce. Lasciamo perdere, guardi. Però che le lacino le piante. È successo anche che una pianta secca abbia ricevuto comunque acqua da chi si occupa di questo servizio, nonostante non ne avesse più bisogno, anche se negli ultimi mesi la carenza idrica sia stata uno dei problemi più sentiti e difficili da affrontare.